Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video ASMR, allora nel video di oggi vorrei di nuovo una seconda volta nell'arco di poco tempo, stranamente, di solito non faccio ordini così ravvicinati nel tempo, ma vorrei mostrarvi di nuovo alcune cose che ho acquistato sul sito di Shane. È già uscito di recente un video riguardo altri acquisti che ho sempre effettuato su Shane, ma appunto essendo questo un ordine separato dal precedente lo mostro adesso in un video separato, anche perché queste cose non mi erano ancora arrivate quando ho registrato l'altro video che avete già visto. Non è un ordine particolarmente grande, non ho preso tante cose, anche perché, come ho già detto, ho già fatto un altro ordine di recente, quindi non avevo tantissime cose da prendere. Comunque, è qui l'ordine. Ah, e poi ho anche un'altra cosina da mostrare che non c'entra, però che mi va a dimostrare che ho preso a parte, non so Shane. Allora, la prima cosa è qui dentro. E questa cosina da mostrare che non c'entra, non c'entra, non c'entra. E qui, praticamente, questa adesso spero di riuscire a far capire, in ogni caso è abbastanza semplice come concetto, quindi si dovrebbe anche capire com'è fatta. È semplicemente una camicia. È una camicia nera, a maniche lunghe. Così. Tranquillissima con il colletto, con le maniche e i bottoni, che sono ovviamente tutti neri, perciò non si vedono nemmeno più di tanto. È abbastanza leggera, però sono contenta. C'è il tessuto è esattamente come si vedeva sul sito. E mi piace, cioè, era l'effetto che cercavo. È appunto questo tessuto un po' lucido, diciamo. E, cioè, si vede che è un po' lucido. Maniche lunghe, semplici, non troppo pesante, più o meno leggera. Direi, cioè, è come era sul sito, esattamente come si vedeva sul sito. Quindi sono molto contenta di questo acquisto, perché rispecchia pienamente quello che stavo cercando da questo prodotto. Poi, passando a generi molto, molto diversi, ho preso, sempre su Shane, un paio di calzini. Dico genere molto diverso, perché comunque la camicia era abbastanza elegante. Non so se si è notato, però comunque sì, lo è. L'effetto è quello. I calzini sono tutto tranne eleganti. Praticamente questi calzini sono di quelli pesanti. Si vede che il tessuto è bello pesante e hanno qui, su entrambe le calze, queste apine stampate di sopra. In realtà non le ho prese tanto per le api quanto per il colore e per il materiale, perché, proprio come sembrava dal sito, sono molto pesanti, che è una cosa buona, perché, non lo so, io ho sempre bisogno di avere i piedi al caldo, mi piacciono i calzini pesanti. Li metto per andare indiro per casa. Il colore è bellissimo, veramente bellissimo. Sono morbidissimi. E anche questi decisamente super approvati. Infine, ho preso due prodotti praticamente identici, ma di colori diversi. dato che in questo periodo sono un po' infissa, diciamo, con questo genere di cose, di abbigliamento. ho preso queste due sorta di cinture, diciamo. Allora, la cintura è questa qui. Questa parte è morbida ed è estremamente elastica. E poi davanti c'è questa qui, questa parte così, tutta intrecciata e tipo pelle. Si può stringere, cioè in realtà è stretta al massimo, però comunque si può allargare. Qui dentro c'è un fiocco. Lo si può sciogliere e lo si può allargare. Ma io l'ho già provata e mi sta così, quindi non l'allargerò. E poi qui dietro, sempre tipo pelle, c'è questa qui, che è uno strappo di pose per aprire e chiudere la cintura. E poi si richiude allo stesso modo, così. E appunto l'ho presa di questo bel marrone. E anche, sempre un classico, nera. bellissima, anche così. L'unica cosa ho notato che quella nera è leggermente più larga rispetto a quella marrone, nonostante sia lo stesso prodotto di due colori diversi. non saprei bene come spiegarmi questa cosa, ma è così. È un po' meglio quella. Ma anche questa è molto molto bella. Appunto è fatta allo stesso modo identico con la parte semipelle qui, qui la parte elastica e dietro la solita apertura. così. Per quanto riguarda il prossimo acquisto, ho detto che non l'ho fatto su Shane, l'ho preso da Amazon, in realtà. e non so di quanto si capirà. È un corsetto. Allora, ovviamente un corsetto non rende più di tanto se non indossato, però cercherò di far capire. Penso che tutti più o meno sappiano come funziona un corsetto. Però, comunque, c'è questa parte e questa che si uniscono sul davanti. Ora è un po' difficile andando una ventola addosso, però comunque, così. Ok. E davanti si unisce così. E poi, nella parte dietro ci sono tanti tanti fili. Tutti questi sono fili. Non si capisce veramente bene come funzionano fino a quando non lo si prova. Io non ne avevo mai provato uno. È stata un'esperienza mitica. È bellissimo. E mi fa sentire benissimo averlo addosso. E quindi si indossa, si chiude la parte davanti e poi dietro si tirano i lacci. In base all'effetto che si vuole, si decide quanto tirarli. Dalla parte di sopra e dalla parte di sotto. Quanto si vuole estrangere la vita, eccetera, eccetera. Io l'ho preso S come taglia. Ed è giusta così. E questo copre fino a... cioè, copre da sotto il seno in poi. L'ho scelto così. E sono contentissima di questo acquisto. Ma davvero felicissima. Lo volevo da un sacco di tempo. In realtà, un corsetto lo volevo da veramente, penso, anni. Però adesso, non lo so, sono un po' più grande. Sono anche tornati di moda. Quindi è più facile trovarli in giro. Non so se ne comprerò altri. Però comunque si è capito che questa categoria di cose mi interessa, mi piace. Io non ho una foto che renda con questo corsetto. O che possa far capire, insomma. Io non ho una foto. Però, giusto, se volete, io lascio il link al mio profilo di TikTok. Che, vabbè, è pubblico. Quindi, se volete guardare. E in qualche TikTok più recente indosso questo corsetto qui. Penso che registrerò anche in qualche TikTok con le fasce, le cinture che ho preso su Shane. Perché mi piacciono molto. E tutto quello stile di video mi piace molto da vedere, da registrare, da vedermi vestita in quel modo. Quindi, niente. Così, semplicemente, se volete farvi un'idea. Poi, ovviamente, liberi tutti di fare quello che preferite. E, niente. L'ho detto all'inizio. Non era un video particolarmente lungo. Non avevo preso poi tante cose. Però, ci tenevo a registrarlo. Quindi, io direi che ci vediamo nel prossimo video. Spero che questo video vi abbia rilassato. Che vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.